Lo sapete che la prossima settimana non avete scuse? Sì, che nel weekend arriverà il capolavoro delle Zeppelin, uno dei tanti capolavori, vinile trasparente edizione limitata del quarto album con Star Boy 2 Event dentro, no? Eh? Quindi vedete sicuramente il negozio da noi, troverete anche tantissime altre sosprese, vinili usati, molti vinili italiani ristampati stupendi e tanti altri titoli incredibili. Vi aspettiamo la prossima settimana, mi raccomando, eh? Dai!